e pensati nuovamente in questo post partita siamo in compagnia di coach raiz ciao e benvenuto nuovamente in intervista come stai beh sto abbastanza bene questo è la prima winner interview di solito l'agnello sacrificale che andava alla loser è venuta finalmente si è venuta finalmente il tuo momento di essere qui come vincitore quindi innanzitutto complimenti per questa partita e voglio subito cominciare proprio da questo game perché innanzitutto si è la vostra prima vittoria ma soprattutto è la vostra prima vittoria contro i match co due volte cambiare in dello split deve essere stato deve essere soddisfacente per voi ma voglio sapere un po il tuo punto di vista allora penso che sia la partita in cui non eravamo a 10 minuti di almeno 3 4k gold abbiamo fatto un comeback incredibile io quando ho visto scar come sta trovando questa partita volevo un attimo perplesso proprio abbiamo recuperato il momento solo solido e l'ho vinto sono contento comunque di finire una una dopo risultato del fardo di ieri beh comunque sicuramente vincere anche contro un team del genere porta a casa delle soddisfazioni non indifferenti e voglio parlare un po con te di questo nuovo roster degli axolot perché all'inizio dello split un po prima realtà che iniziasse lo spettacsi si stava un po parlando di questi nuovi roster sia i caster che gli analyst avevano descritto questo roster come un roster cuscinetto eppure in queste due settimane ci state dimostrando non solo di poter battere il match co ma anche nelle sconfitte a questa opinione abbastanza di tutti siete sempre il team più consistente quindi voglio sapere un po da te come si trovi con questo roster allora penso sia innegabile di nascondere gaxolot ha avuto dei problemi e di certo questo roster è nato molto diversamente da quelli precedenti però per quanto magari non ci siano cinque superstar presumo che singolarmente siano tutti molto molto bravi nel loro ruolo abbiamo avuto qualche problema appunto gli altri game mid-late game perché magari mancava di esperienze in più eccetera però se continuiamo a lavorare a lavorare bene come stiamo facendo secondo me possiamo veramente veramente fare bene penso che comunque stiamo dimostrando in questo primo anno di settimana assolutamente sì e come ti dicevo sia i caster che gli analyst sono abbastanza tutti convinti sul fatto che stiate comunque mostrando delle performance molto solide anche appunto come dicevamo prima anche nelle sconfitte ci state lasciando delle buone delle buone sensazioni l'ultima domanda che voglio farti invece visto che abbiamo appunto la possibilità di parlare con un coach voglio sapere come ti stai trovando in merito proprio alle draft alle composizioni con questa pace in cui state giocando al momento che una pace molto chiacchierata vabbè per prima di tutto ovviamente per me è stato un onore mandare fk in draft cristo questa quest'oggi noi secondo me ci troviamo molto bene perché siamo messi abbastanza bene lo di champion pool non penso che abbiamo nessuna difficoltà in in nessun in nessun in nessun ruolo quindi li stiamo adattando al meta e per fortuna non c'è nessuno che sta avendo difficoltà né a pk fare campioni né a come stile di gioco magari persona scaling e questo è sicuramente ottimo perché appunto vi sta permettendo di dimostrare delle performance come quelle di oggi io ti ringrazio tantissimo per questa intervista ti faccio i miei più grandi complimenti per questa vittoria e ovviamente ti auguro un grande in bocca al lupo per la prossima vi auguro un grande in bocca al lupo per la prossima settimana grazie allora la prossima settimana sarò ancora qui dai ti aspetto ti aspetto io sono aperta io accetto offerte scrivetemi in privato io offroni tweet in su un vostro supporto non è che mi fanno tweet io ma certo ma certo che ho bisogno che sul me non sto sto faticando quando torna challenger dobbiamo sicuramente cosa da dire di questo draft abbiamo molto da dire dica dica vi do il la per iniziare a parlare perché con la sorpresa di nessuno io natis è l'nvp di questa partita c'era poco da discutere è stato un gran bel game non era facilissimo forse ecco io natis in questa draft era forse il più in difficoltà perché comunque stiamo parlando di una draft che per 4 quinti poteva giocare in modo molto dinamico era proprio quella guenna dover giocare un pochino più per se stessa raccimolare risorse non sto menzionando camille perché comunque camille per quanto sia un campione molto forte in scaling e a gollare sulla side con 5 oggetti per tirare le ulti di chogat a 3 secondi di cooldown qui poteva fare un ruolo un pochino più utilitaristico aveva il setup con la ulti di galio per scombare poteva davvero anche solo giocare di rampino ultimato mextech per agevolare luciannami quindi non era proprio la partita in cui guen e camille dovevano sparire dalla mappa per riperfarmare e a maggior ragione non l'ha dovuto fare guen perché ha trovato un sacco di sbocchi sulla mappa è stato bravissimo Ionatis a trovare un sacco di partecipazioni quando ancora sulla carta i tempi erano un po' acerbi per quella guen quindi super 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 clean su performance si stranita titoli MVP ma parliamo di questa draft degli Axolot perché è vero c'è stato un impetuoso draft gap qui per il buon Reitz e sicuramente lo chiesto ci ha messo del suo qui cedo la parola a Deido perché le sperimentazioni qui si sono rivoltate contro il mostro di Frankenstein si è rivoltato contro il suo creatore e se l'ha divorato allora sì prima di dare Deido mutato un Deido mutato ce l'abbiamo signori io ci sono Deido mutato finalmente eccolo voi non mi sentivate la cosa sì scusatemi piccolo ups sì 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 non ti sentivavo come ha detto Reitz i suoi players devo dire che sono molto versatili con quel gallo pic che sicuramente ha sorpreso Cristo perché altrimenti non penso avrebbe preso un Echo così alla leggera quindi è un doppio doppio GG no? da questa parte degli Axolot invece Cristo potremmo dire che è un'altra draft dove hai tiri troppo la corda tiri tiri prima o poi si spezza però potremmo anche dire che potrebbe essere stato un errore dei player cioè tu hai la solita Cristo draft che non è la prima volta che giocano così in Magico ovvero incentrata principalmente sullo scaling ok? non mi potete mai dire che Kane Echo Ezra, Newmie ok? c'è l'Olaf a fare da bridge per l'early game cosa corretta si transiziona anche bene in mid to late game però sono state prese troppe skirmishes in early cioè non stiamo parlando di un game che è arrivato al punto in cui effettivamente i Magico avrebbero potuto giocare la partita il game stava andando bene l'Olaf che prende vantaggio così prepotentemente in early è il giusto bridge che ti permette di rimanere in game finché poi non ha scali ma sono state prese troppe skirmishes la botta è stata completamente rannata over stessa roba ci sono state troppe skirmishes prese che non sarebbero non avrebbero mai funzionato quindi secondo me più che dare la colpa alla Christodraft che sicuramente darei un vantaggio cioè sicuramente preferirei anch'io quella degli Axolot ok? un Lucianami aggressivo con un Galio Mint che può effettivamente workare una Camille che se va even comunque non ha problemi contro la Feguen contro 3 mili topside la draft degli Axolot era validissima però non credo che da da bandire Christod all'albo dei coach per queste draft lo fa sempre c'è qualcosa nei players che non sta funzionando non stanno giocando in league come dovrebbero giocarlo con queste draft qui quindi credo che sarà solo un ci vuole un po' di discipline in più ok? sento già Christod che gli fa guys we need more discipline andate a zappare subito fine Raresh 15 flessioni subito let's go secondo me vedremo i match con Evolversi lo stile di draft non penso cambierà quindi vedremo ancora queste draft ma cambierà lo stile dei player i player prenderanno meno errori perché tutti questi errori in early game non ti permettono nemmeno di arrivarci in mid to late quindi questo è tutto poi ovviamente un grande applauso agli Axolot tra le Scar che ha deciso di di slittare sulle banane di Mario Kart però è un po' scivolato ma va bene così cioè nel senso draft ottima esecuzione buona un job e io voglio dare ancora un po' più di tipo in questa questione dei match cop perché chiaramente tutti vedono i due volte campioni dello spring split del summer split del 2021 che sta succedendo è vero che il roster è un po' diverso ed è proprio del roster che voglio parlare secondo voi dov'è che dove si può trovare non voglio dare la colpa a un giocatore ma voglio capire dov'è che si sta mancando qualcosa dov'è che si interrompe qualcosa secondo voi è una questione intera di team o dite che in realtà ci potrebbe essere un un disallinamento hanno attraversato una fase simile in Mashko anche lo scorso split in cui sforzavano un pochino più la mano del solito con le draft e questo mandava gambe all'area all'intero roster perché comunque proporre nuove draft significa anche dover avere un roster pronto ad accettare dal punto di vista del playstyle è inutile iniziare a giocare out of the blue lushan nami se per necessità proprio per attitudine della tua botline hai due giocatori estremamente conservativi che vogliono accumulare risorse e giocare il team fight col resto della squadra e probabilmente qui si è andato un po' in quella direzione si è avuto uno Ho che nelle scorse week ha giocato molto utilitaristico e è tornato sui suoi assassini per meccanici esplosivi senza fare i conti col fatto che dall'altra parte c'erano Reitz che si è tenuto aperti molti flex molto bella la draft di Reitz per quello Gwen in R2 ti dà ben poche impressioni di voler essere una Gwen che finisce jungle e lo switcheru dell'R5 che manda gambe all'area ecco gli toglie tutta l'agency che vorrebbe avere un assassino AP è stata una gran botta da parte di Reitz secondo me oltre al fatto che hanno avuto anche la buona intuizione della Camille into Olaf hanno avuto davvero una serie di intuizioni molto molto buone che secondo me anche con i ban poi hanno tolto Kartus che secondo me voleva essere la vera porta sul retro di questa draft col seno di poi hanno tolto Kartus Action in seconda rotazione che erano un hyper carry molto migliore e un collante molto migliore per il mid game di quanto non sarebbe mai stato ecco quindi quel quarto e quinto ban di Reitz sono stati 5 head questo non me lo toglie nessuno comunque detto questo è sicuramente una fase di sperimentazione per dei magico che non hanno nulla da temere da questa regular season non so se lei è d'accordo è normale che quando sei così tranquillo di avere il biglietto per leo master adesso magari sto esagerando ma per il playoff cominciamo da quello permette anche qualche lusso sono d'accordo sono d'accordo bene bene vedremo comunque nelle prossime settimane chiaramente come diciamo sempre siamo all'inizio c'è ancora tutto il tempo per poter appunto sperimentare e fare eventualmente degli errori ma è venuto il momento dell'ultimo partito di questa giornata atleta e-sport contro e-sport empire parola ai caster eccoci tornati pronti per l'ultimo match di questa giornata abbiamo una risposta gli atleta per fortuna oggi giocheranno ci sono perfetto questo è quello che tutti speravamo di vedere alla fine nessuno è stato contento con i risultati di ieri anche gli outplay stessi l'abbiamo visto molto molto delusi dal non potersi confrontare con una squadra che comunque si stava presentando come una squadra pronta al PG Nationals con un gran debutto una gran prima settimana soprattutto da parte di Enz che è sceso in campo come forse il migliore in campo della week 1 grandissime performance individuali vederli tirare quella brusca frenata ieri è stato un colpo al cuore ma come detto un po' anche scherzosamente affettuosamente dai giocatori di atleta nel rispondere a Brits è soltanto per aumentare l'hype della partita di ritorno perché lo sanno che questo sarà il game dell'hype oggi però tornano in campo e tornano in campo contro gli eSport Empire che per quanto siano tornati ieri con il loro roster completo con adesso anche l'Amzes nella formazione non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria c'è anche da pensare però che gli eSport Empire ieri sono sembrati in alcuni momenti di partita degli eSport Empire che potevano assolutamente mettere le mani avanti sul derby dell'arancino arancina però d'altro canto si è vista ancora qualche piccolo problema l'ha detto anche Sandalo aveva la febbre a 39 ieri sera quindi spero che oggi possa riprendersi e giocare nel migliore dei modi in alternativa questo è il derby della febbre adesso atleta contro eSport Empire vince chi sta meno peggio a quanto pare però sì ieri è stata non soltanto una partita combattuta è stata una partita combattuta contro i Cybercround che non è affatto da sottovalutare i Cybercround in questo momento sono secondi in classifica quindi gli Sport Empire hanno lottato praticamente alla pari con uno dei colossi per adesso di questo inizio stagione e ci sono stati dei momenti purtroppo veramente veramente deludenti sul finale io stavo guardando quella partita ero a casa sul divano con la mia pizza stavo guardando il game e quando ho visto sul finale prima del fight all'elder Lebron ricollare nella metà campo avversaria in un cespuglio sul nome di controllo dei Cybercround è stata una delle poche volte sai quando sei solo a casa e stai guardando qualcosa e parli ad alta voce nel senso se sei da solo non parli ad alta voce ho visto quel ricollo ho detto no ho fatto proprio così ho fatto no infatti sono arrivati tutti i Cybercround l'hanno fatto fuori game finito momenti come questi vanno rimossi dagli Sport Empire perché altrimenti questa è una squadra che già ieri ci ha fatto vedere può performare molto bene molto meglio di 1-0-3 vediamo allora cosa riusciranno a fare subito il ban di Karma e quello di Seraphine l'abbiamo visto Sandor o Sandoras come preferite chiamarlo uno dei più grandi bottom laner a giocare questo campione che ovviamente viene visto come support invece dall'altra parte Talia e Gwen due possibili carry danni AP non sono cosa buona per gli Sport Empire tanto tanto danno magico fra adesso eliminato in questa draft quattro campioni a conti fatti da danno magico quell'Olaf adesso il primo che si inserisce come rimozione di qualcosa di fisico Rubio tra l'altro che dopo aver subito quello scontro di Gwen Olaf in top lane ha adattato molto in fretta l'Olaf in top lane dalla sua ha detto game 1 prendo schiaffi da Olaf top ok game 2 fammi provare lo gioco io stavolta vediamo come cambia la direzione e in effetti è stato un pochino più minaccioso e hanno un pochino preso le precauzioni su quella su quella minaccia perché l'abbiamo visto anche nella scorsa partita in fase di corsia è un match up terrificante io ho visto sempre come Olaf sia un match up terrificante se non fai dei grossi errori mentre Gabo va al pick di Viego per Mighty Dragon ormai sono passati i tempi in cui The Ace faceva Penta con quel campione in corsia centrale però non sono passati i tempi in cui vediamo delle performance mostruose i momenti Viego che ormai permeano qualsiasi livello di competizione quindi è un carry jungler che per Mighty Dragon potrebbe simboleggiare un pochino un ritorno in campo anche lui purtroppo non tra i best performer di Atleta nella prima settimana abbiamo visto una week 1 dove Enz in primis Exonix un po' dietro i due si sono fatti forza del ruolo di carry della squadra ma Gabo e Mighty Dragon soprattutto nelle schermaglie li ho visti molto sperduti quindi questo è quello che voglio vedere corretto in una week 2 e poi week 3 e week 4 andando avanti voglio vedere gli atleta un pochino più uniti non doversi appoggiare a un Enz che diventa il mostro dei team fight che conosciamo intanto Lebron va a pickare Kane quindi vediamo cosa succederà voglio farti una piccola discorso su quella leona devi sapere che Sandalo su Discord che è una messaggistica comunque penso che tutti sappiano cosa è Discord nel caso qualcuno lo sappia se sono vecchi come me ha scritto come nome Just Lockin Leona or Naut e questo è già un inizio e quando parlavo del PGNuts una volta in una stream è arrivato Paradox ho detto ho altri 10 campioni oltre a Nautilus e Leona non sembra quante volte hai visto Paradox in queste 4 partite giocare Nautilus o Leona non giocare non giocare non giocare sto abbassando molte dita perfetto abbiamo risposto prego per adesso non sembra che almeno la sperimentazione della corzione inferiore si stia allargando troppo oltre questa direzione da engage abbastanza monotematico per Paradox che purtroppo molti giocatori molti support vanno sempre un pochino a lamentare il team dice we need engage e quindi Nautilus o Leona ti becchino di quei champion la risposta di Atleta in questa prima rotazione abbastanza interessante comunque Xonix torna su uno dei suoi migliori champion lo scorso Spring Split era se possibile victor ogni volta e per adesso appunto come ho detto è stato uno dei più convincenti dei Atleta in campo quindi ben contento di vederlo tornare su un suo comfort quel Braum ho qualche punto di domanda per adesso non vediamo molti pezzi dall'altro lato nelle prime due campioni che Braum va a infastidire troppo non ci sono grandi proiettili con Orianna può essere forse se Orianna non muove la sfera attraverso un alleato ma hai un alleato in alto fianco quindi in realtà non dovrebbe esserci quel problema chiaramente sarà sempre un bastone tra le ruote di un tiratore sulla corsia inferiore a meno che Sandalos non ci propone uno dei suoi pick peculiari qualcosa che non si affida così tanto sui proiettili vedremo un Braum per adesso non avremo molta utilità ma prima o poi la troverà Vado a un altro un altro po' di oggi c'era un personaggio un mid lane tedesco che si chiama Power of Evils che giocava Orianna con i denti di Nashor perché la passione di Orianna sui autoattacchi è molto molto forte beh Sandalos ha giocato fino ad ora a Seraphim perché non continuare con Orianna Vabbè Orianna è andato veramente oltre a posto se volete che ora dovrebbe giocare in NA con i no comunque gioca in NA quello sono sicuro ho visto ora che ha preso il visto ed è andato in Nord America quindi sono sicuro che sia lì credo in Immortals Immortals mi piace perché era prima nei FlyQuest e poi è andato negli Immortals Kyle ribannata anzi ribannata ribannata sì nella giornata di oggi ma bannata per gli atleta come lo stesso GP sembra quasi che non si voglia dare la possibilità al Rubio di andare su dei campioni che possono scalare molto molto bene e alla fine uh ok Calista Calista per la botlane degli Sport Empire così sembra non potrebbe forse ancora spuntere per una Calista in tople ma non penso che questo è il caso Calista effettivamente non soffre così tanto il vedersi i suoi proietti interrotti dal mondo di Braum però soffre normalmente la sua Suprema se la Suprema di Braum è per terra e Calista si trova sopra di essa saltare e caetare è un inferno Calista e i rallentamenti non vanno affatto bene insieme quella in compenso quella cos'è è una Poppy no non è una Poppy è la Poppy di Gabbo questo è uno dei suoi storici campioni dai primi passi nel competitivo italiano prima ancora di raggiungere il PG Nationals Gabbo era noto per la sua Poppy in top lane ed effettivamente quando dall'altro lato c'è una Calista Poppy è la risposta naturale è la risposta naturale per tutti i movimenti sto pensando anche alle Braum con i suoi scatti e Baloo che va a prendere questo Lucian che quasi sicuramente vedremo in corsia infide ha un'ottima anche interazione con il Brom che sarà nelle mani di Baloo già assolutamente infatti mi domandavo un pochino sul perché prendere questo Brom quando non ha veramente tanti strumenti da negare dal lato avversario e ho pensato l'opzione migliore è perché hai molto da sinergizzare invece dal tuo lato e qui colpi stordenti con la passiva di Lucian ovviamente portano un grande vantaggio manca la top lane per gli sport empire quindi vedremo cosa andrà a scegliere Rubio per la sua molto semplice non un particolare counter pick non una particolare risposta non dovrebbe fare troppa fatica a giocare contro Poppy comunque si parla di prevalentemente giocare ranged contro melee per la maggior parte della laning phase puoi però essere ostacolato non poco da Poppy soprattutto nei tentativi di entrata nei team fight Gnar ovviamente molto spesso trova quelli grandi ingressi saltando rimbalzando su un alleato e trovando quella suprema magari anche a mezz'aria sugli avversari Poppy se ben posizionata può negare gli engage di Gnar a meno che Gnar non vada a utilizzare il suo flash per cercarli quindi il pick di questa Poppy per Gabbo sta portando tanta utilità ci sono tante cose che può bloccare molto facile per Gabbo proteggere la sua backline ma è anche molto facile per la sua backline proteggersi da sola quasi Sonic sicuramente un pochino più risicato per lui il lavoro però Enzo è molto mobile anzi molto spesso sarà lui a scattare avanti a cercare quelle aggressioni e hai quel Brom a fare da protezione a fare da peeling a fare da disruptor totale dei team fight quindi gli Sport Empire hanno una grande wombo combo devi però arrivarci a poterla mettere in campo e non lo vedo così scontato vediamo allora cosa riusciranno a fare questi due team quando entriamo su grande evocatori anche perché sto pensando Sandalo era famoso anche per la sua Samira che in questo caso naturalmente è un po' difficile perché quando hai anche Brom di fronte che alza lo scudo e tutti i proiettili del grilletto infernale dovrebbero essere bloccati dall'inarristabile e stavo pensando ad un altro discorso il fatto che Sandalo l'abbiamo visto molto spesso su questi carry utilities Ash poi lo vedi andare su Veigar nella giornata di ieri il scorso Split era perennemente sul supportive role sul ruolo supportivo con quella Serafin insomma vedere questo pick di un AD carry peculiare proprio di ruolo che non sia solamente il supportivo come Ash ma che debba prendersi un vantaggio mi fa ben sperare perché voglio vedere ora come performerà Sandalo in questo caso è qualcosa da tenere d'occhio sicuramente ha diverse responsabilità sulle sue spalle comunque manteniamo qua la draft perché siamo anche un attimo in pausa quindi non potremmo entrare in partita direttamente dobbiamo aspettare ancora qualche istante però questo ci permetteria appunto avere dei punti di referenza un pochino più chiari per l'appunto hai sicuramente un forte carry in questo Orion se Orion riesce a prendere via Kane oltretutto guardando anche la composizione avversaria immagino che probabilmente sarà un Kane rosso quindi un un rust un pochino più resistente un pochino più ibrido frontliner quello che si poi purtroppo non è riuscito ad essere nella scorsa partita però hai delle fonti di danno alternative non sei nella posizione in cui Kalista snowball e prende il via è la tua unica via d'uscita Kalista può vivere una fase di corsia che immagino sarà abbastanza sofferta comunque contro Sion Ballon dall'altro lato arrivare ai suoi primi oggetti e fare quasi più da facilitatore per il team fight da enabler di quella wombo combo una wombo combo che non inizia più cercando la fiammata con Leona ma direttamente lanciando dentro Leona concatenando poi tutto il resto con fiammata con l'entrata di Gnar con la shockwave di Orianna insomma tanti modi diversi per creare quella wombo combo che alla fine è alla base della composizione degli sport empire stavo pensando che ha fatto proprio come può andare il team fight perché se mai il dragon trova un reset allora lì si inizia a parlare di altre cose altre situazioni ma nel caso non arrivi il reset qui si gioca molto sul fatto che Sonic e Enza avranno una front line in Gabbo e lo stesso Baloo che gli permetterà di poter fare il DPS senza troppo pensare come dicevi tu in precedenza del cosa mi potrebbe arrivare in faccia ed è un po' anche una composizione quella costrita dagli atleta dove ti stai coprendo diverse aree di gioco early game ci pensa Lucian a fare il carry Lucian spingerà tanto sulla fase di corsia punterà ad essere una minaccia già dal primo oggetto sulle schermaglie poi quando si inizia a entrare nel mid game nelle fasi un pochino più avanzate del mid game hai l'entrata in scena di quel viego che inizia a speckare già anche sul secondo oggetto tra l'altro voglio vedere che viego sarà perché abbiamo visto recentemente anche la crescita del viego da itemizzazione da critico quindi con oggetto mitico uccisore di kraken e poi invece oggetti secondari da tank quindi è qualcosa che My Tregon potrebbe proporre per essere un pochino più aggressivo sulla prima spike però comunque mantenere la sua resistenza nelle schermaglie e poi per quel late game hai Victor Victor ovviamente se prende il vie a prima ancora meglio Sonic ci ha dimostrato di saperlo fare anche molto bene con questo campione però lui è la rete di sicurezza la rete di sicurezza che comunque mette le trappole gravitazionali per ostacolare l'engage degli avversari per rendere un pochino più difficile con la loro wombo combo l'esecuzione del teamfight e piazza tutto quel danno d'area fa il mago da controllo nel late game per semplicemente rendere il teamfight degli Sport Empire un po' un campo minato dove devono stare molto attenti a come si muovono come si posizionano non possono soltanto correre avanti la cerca per cercare quella wombo combo invece Gabbo dall'altra parte nell'1v1 contro Rubio hai detto bene anche tu che Rubio avrà molte difficoltà nel caso arriverà la W da parte di Gabbo per andare a bloccare tutti i vari movimenti ma soprattutto Gabbo il landing face l'avevo visto molto spesso in una posizione di weak side fra molte virgolette cosa porta questa landing face per Gabbo e Rubio? beh di nuovo è una weak side per Gabbo hai Lucy e Brom sul lato inferiore di mappa sai che quella è una lane a priorità costante vuoi giocare attorno a loro voglio mettere il jungle su con la metà di mappa sia per aiutarli a cercare qualche aggressione perché hai buon engage da parte del Braum ma anche semplicemente per coprirli assicurarli che gli avversari non possano approfittarsi della loro priorità e del loro costante avanzamento di mappa quella è una Poppy che non attendrà molti visitatori non preparerà il tè per i amici e i colleghi sulla corsia superiore è una Poppy che resisterà come meglio può alla fase di corsia cercherà di concedere il meno possibile a Gnar e magari vedremo partecipe sulle prime schermaglie attorno al messaggero è così però è appunto uno di quelle partite dove Gabbo si mette un po' i pantaloni da Wixider e farma cosa che in realtà gli riesce anche molto bene Gabbo è un giocatore che secondo me sa brillare anche in questo non soltanto il momento chiave nel teamfight quando c'è bisogno di fare quell'azione nel fight che la riesce a fare ma quando c'è bisogno di metterlo da parte e non dargli attenzioni non dedicargli attenzioni non dedicargli risorse perché c'è bisogno di concentrarsi altrove sulla mappa lui è il giocatore che sa non esagerare prendersi solo quello che può permettersi di prendere e comunque essere utile una volta che si arriva agli scontri stiamo entrando quindi sulla linea di vocatori per l'ultima partita di questa giornata quella fra Atleta eSports e eSport e Empire chi avrà la meglio fra queste due squadre fra parentesi non viene nessuno top e quindi Gabbo con il martello il suo custode quando darà il martello è il vero eroe è più avanti più avanti vediamo continuerà la ricerca nel corso della partita però mi sa che almeno per le prime fasi di gioco quel martello rimarrà saldo in tasca a Popp intanto andiamo a venire anche le rune Eri per i due mid laner mentre preso l'immortale per Gabbo vorrà utilizzare anche il suo scudo il suo attacco dalla distanza per poter proccare intanto come potete ben vedere la scelta per Mighty Dragon va per il Presti Attack per lui stesso stessa cosa anche per Enz dall'altra parte invece siamo con Leil of Blades e il Conquistatore aspetta si sono visti? credo proprio di sì credo proprio che Sandro si abbia identificati ma adesso ormai questo individuo è ufficializzato le pronte a livello 2 però dopo aver preso questo buff vediamo lo smite è arrivato ok Mighty Dragon l'ha preso è riuscito a prenderlo quindi si muoverà probabilmente per una prima polizia di giungla 3 buff questo è molto buono per lui e soprattutto Baloo e Enz in anticipo su Paradox e Sandolas questo vuol dire anche livello 2 in anticipo teoricamente per ragazzi se si può un attimo vedere Sandolas e la sua esperienza per capire un attimo la situazione così è solo ora infatti soltanto adesso il primo Caster Minion gli dà esperienza questo sì sarà un livello 2 molto facilmente raccolto da Enze Baloo non soltanto sulla priorità dell'ondata ma anche per il fatto che fosse l'ondata alla pari Sandolas comunque non la troverebbe alla seconda wave alla caduta di quel terzo Minion della seconda wave infatti Enze Baloo controllo totale di questa prima fetta di azione sulla corsia inferiore molto bravi nel cercare quell'hating bait l'esecuzione è stata liscia e anche se fosse scoppiato un fight hai Brown che è uno dei migliori campioni livello 1 in assoluto quindi molto consapevoli di quello che era il loro potenziale sono andati a cercare il giusto scontro e ne sono usciti ricompensati anche perché adesso hai quel Kane dall'altro lato chi farà fatica a cercare di vendicarsi contro invadendo perché Kane è un campione che per quanto voglia combattere schermagliare raccogliere stack non è molto forte nel Farrell in queste prime fasi di gioco ed è tra l'altro di nuovo il Kane da spettralità e conquistatore quindi lo vedremo nella stessa identità di cui l'abbiamo visto nella scorsa partita è di nuovo voglio vedere se di nuovo andrà verso la letalità voglio vedere se di nuovo andrà verso l'epis era quella la mia domanda perché quello è un po' il punto interrogativo che mi ha fatto a posteriori a priori ma soprattutto adesso anche a posteriori storcere il naso della partita precedente Lemzes deve stare molto attento c'è Lebron prova a ripulire la visione qui Lebron sembra essere in difficoltà non riesce veramente a rispondere al movimento e alla bravura dello stesso Mighty Dragon nel aggredire al momento giusto l'avversario aggredire questi obiettivi neutrali stavo pensando anche al Blue che era disturbato in precedenza Lebron avrà comunque qualche milione in meno dovrebbero essere in teoria quattro quelli che ricevi dal Blue quindi sarebbero quattro milioni in meno rispetto a quelli che avrà Mighty Dragon 4 CS per ogni campo Paradox c'è anche Lebron infatti c'è anche ora l'utilizzo del del tentativo di attacco da parte i giocatori manca veramente poco non ci hanno creduto in fondo forse non l'ustione è stata utilizzata Balou fin di vita ma Enzo ancora bello pronto a rispondere al fuoco quindi gli Sport Empire non hanno voluto strafare devo un po' chiederei alla regia se possiamo avere un replay di questa piccola schermaglia perché Sandolas alla fine non ci ha creduto fino in fondo c'è stata anche un po' una di quelle situazioni di flash e contro flash che non permette facilmente di seguire l'aggressione però punto gli occhi su Sandolas qua si è fatto avanti sul potenziamento glaciali un po' rallentato all'inizio sempre molto prudente sa che se Enzo si gira nel momento sbagliato lui è finito e qua muoversi purtroppo verso il Cespuglio non lo ha aiutato a chiudere la distanza su Balula l'accelerazione era già andata quindi niente da fare è semplicemente qualche summoner spell rubata ma comunque più summoner spell spese da parte degli Sport Empire quindi vantaggio atleta Lebronche viene visto ora anche da un lume di visione sanno la posizione del giocatore degli Sport Empire sanno tutto perché ci sono due lumi precisi uno iKrug l'altro invece iRaptor ma il Dragon invece non sarà visto dai player degli Sport Empire infatti lo vediamo in corsia inferiore pronto dopo che Enzo e Baloo avranno chiuso su questa minion wave per andare ad attaccare il bottom laner e il support degli Sport Empire arriva il piccolo spettro a scautare la Trifronda lo spettro non rivela la presenza ma il Dragon ha spottato dal lume infine attenzione ora sicuramente di fronte Paradox vediamo che Sandolas ora continua ancora a fare danno da una parte all'altra riesce a mettere dei seri danni però non sono ancora abbastanza su Baloo ovviamente abbiamo sottolineato la sinergia di Enzo e di Lucian di quei colpi doppi con la passiva di Pro ma anche Mighty Dragon funziona molto bene in quella direzione anche lui colpisce un'abilità e ha il doppio colpo quindi può farmare quei colpi stordenti trovare la stack abbastanza facilmente purtroppo però di nuovo il tentativo di azione sulla botlane non va a buon fine anche se bisogna tirare le somme guardi il tabellone in alto dici 600 gol di vantaggio dove li hanno cavati poi guardi in basso Enzo è il doppio del faro di Sandolas e questo è un po' il problema il fatto che normalmente Calista ha un'idea di gioco sul early to mid game quindi nelle prime fasi di gioco quando ti trovi contro Enzo e la aggressività di Enzo la conoscono un po' tutti nelle pijinaz se non in tutta Europa ti fa ben sperare per lo stesso Enzo ma ti fa un po' pensare in negativo di quello che potrebbe succedere in quella corsia inferiore vedremo se sarà così perché devono stare molto attenti intanto Lemzes in difficoltà arrivano alle fauci poi ecco la rama del re rovina tempesta del caos e il flash di Lemzes per salvarsi molto prudente Lemzes è flash di tutto rispetto ma bravi Mighty Dragon X Onix a farla a tirare fuori un'aggressione letale senza neanche farla sembrare tale sono arrivati un po' di danni qua e là ma mai la grande compro di tutto insieme che ti fa pensare che devo flashare immediatamente infatti Lemzes pensava di essere sicuro non avesse avuto i riflessi pronti su quel flash ci sarebbe probabilmente morto senza neanche utilizzarlo quindi molto bravo nel non perdersi comunque d'animo nervi saldi sangue freddo si va ancora avanti sullo 0-0 primo sangue ancora assente da questa partita ma gli atleta continuano a generare vantaggio in maniera schiacciante quella bot lane sanguina per gli sport empire e purtroppo se penso anche soltanto allo spring split se ricordi questo fu un match up della prima settimana un grande upset conquistato dagli sport empire che con la prima volta che proposero quella seraphine nautilus in bot lane conquistarono un ottimo upset contro Enz e al tempo cospec come compagno di corsia battendo nel 2v2 una delle bot lane più pericolose del pg nuts ma già il match di ritorno fu una storia ben diversa il match di ritorno Enz tornò in quella bot lane con molta più aggressività molta più determinazione e se lo sta portando dietro anche in questo summer split perché questo è un percorso di corsia inferiore che una calista non può reggere non può reggere questa l'hai detto tu calista è comunque un campione che gioca per l'early game che gioca per la forte fase di corsia e qua sta soffrendo come un cane soffre tantissimo e questo è una cosa che potete vedere se guardate in basso sono quasi 30 milioni di differenza fra lo stesso Enz e Sandolas fa pensare molto il fatto che i ragazzi degli Sport Empire hanno provato a creare una sinergia veramente eccellente nella parte alta di mappa con Lamses Lebron e Rubio però in questo preciso momento sembra quasi che l'idea di base non vada a segno Oblognar prova a prenderla e metterla al tappeto guardiamo i martello di custode Gabbo negato subito il tentativo di inserimento e anzi gol sbagliato gol subito potrebbe essere arriva anche l'utilizzo di lustione le Fauci non vanno a segno Rubio con il flash potrebbe rimanere ancora in vita vediamo se sarà abbastanza oppure no Gabbo lo vuole regalare lo stesso Mighty Dragon ora arriva anche il primo sangue da parte di Xonix grazie all'aiuto del suo support Balti Dragon su Rubio anche però Lebron ha cercato il trade back Baru potrebbe arrivare il trade back meno male che c'è anche l'utilizzo del capo capitazione il flash di Paradox verrà prendersi Baru anche l'ustione la kill verrà presa poi da Lebron lo scambio almeno alla fine arriva a compimento 2 per 1 quindi nel trade esteso a favore Atleta su un'azione in top lane dove veramente Gabbo ha saputo difendersi benissimo e al contempo appare chiara la tavola per Mighty Dragon anche come ha consegnato la kill al suo jungler Mighty Dragon che con questo piccone spadalunga immagino a questo punto andrà molto rapidamente verso quel uccisore di Kraken grande inizio di partita per Atleta che continuano a spingere su quello che era un vantaggio inizialmente isolato sulla bot lane ma che spostando Baru fuori dalla corsia inferiore capitalizza molto facilmente anche sulla mid lane guarda sono direttamente hanno runnato down sono presentati faccia a faccia hanno detto salve noi adesso la uccidiamo va bene? non importa si prendono la kill senza troppe moine qua quello Rian non aveva il flash poco da fare ben giocato su un altro da Lebron che aggira un po' la trappola gravitazionale e sull'inserimento di Paradox esce a rispondere all'uccisione con l'uccisione conquistando anche tra l'altro un po' di stack che sicuramente lo aiuteranno verso la sua trasformazione Lebron che ha iniziato questo Herald che state vedendo in questo preciso momento sui vostri schermi mentre Rubio sta avendo con il bounce della minion wave un vantaggio nella parte alta di mappa anche e soprattutto pensando al fatto proprio che lo stesso Lebron insieme al suo compagno in corsia centrale hanno preso questo Herald dato in mano al jungler mentre Sandolas e Paradox continuano a giocare sotto la propria torre in attesa di un possibile ingresso anche se qui dicevo prima hai voluto creare questo tipo di azione nella parte alta di mappa andando a lasciare un po' Paradox e Sandolas da soli infatti come lo deve vedere c'è Mighty Dragon ma non c'è ancora l'ombra di Lebron eh no Lebron dietro l'angolo compare adesso spottato dal lume tra l'altro quindi Lebron deve stare attento comunque alla profondità che sta cercando visione sì certo importante attorno ai draghi ne ho preso uno vorresti molto come lo intera doppiare però anche se hai Mighty Dragon su quel lato di mappa se ti piccano nella giungla Mighty Dragon non può aiutarti la pressione sulla torre però è immensa guarda ancora quella bocca in 40 CS in differenza a favore di Enz verificante e adesso Paradox chiamata solare poi anche l'utilizzo del richiamo fatale per tenere in vita lo stesso Paradox Baloo che rischio per lui un po' risicata sì per fortuna quella Stasi permesso di isolarsi un po' dall'aggressione nemica ma alla fine è soltanto appunto quel rafforzo a fianco di Enz che continua a diventare sempre più grande io guarda per adesso a leggere soltanto cifre differenze in gold uccisioni qua e lassima poche vuol dire relativamente io aspetto il momento in cui arriveremo alle schermaglie del secondo terzo drago quando Enz avrà un oggetto e mezzo due oggetti e Sandola starà ancora cercando di finire il primo purtroppo questa è la traiettoria che si sta venendo a creare in questa partita l'atleta su tutta la mappa ormai stanno costruendo un vantaggio non indifferente Lebron è l'unico che sta cercando di staccare un po' CS il suo avversario ed è perché si è chiuso a power farmare con quel Kane ma di nuovo se stai power farmando con Kane non stai raccogliendo troppe stack ritarderai un po' la tua trasformazione non è veramente ideale comunque come scenario intanto i atleta grazie proprio al vantaggio ricevuto in corsia inferiore grazie tutto al vantaggio che hanno in corsia inferiore i minion e anche a livello di oggetti Mighty Dragon ha libero accesso a questo drago infernale secondo drago il terzo sarà un drago della montagna oggi e te Moon siamo proprio rock solid rock solid lande montuose abbiamo avuto una landa dell'oceano oceano un oceano e due montuose almeno sicuramente e l'oceano quindi tre questa è la quarta questa è la quarta due cioè due aspetta perché c'è l'aggressione poi anche grazie all'intervento di Paradox con l'arma dello Zenith follow up che non arriva grazie all'inarrestabile di Brum scemo io che mi interro queste questioni totalmente inutili con i tipi di lande che abbiamo visto quest'oggi mentre il povero Pardo che sta soffrendo le pene dell'inferno sta richiuso sotto questa torre andrà a cercare un po' di destreggiarsi almeno con i saltelli bravo nel posizionamento ma comunque guarda il danno che si è ripreso pur evitando praticamente 4 skillshot su 5 il problema in questo momento è vedere proprio come i Sport Empire si lasciano la corsia inferiore da sola ma la domanda che ti poni e cosa hai preso di conseguenza ora Sandro l'ha anche la frattura glaciale Enzo GameForce e poi il flash out per scappare prima attore conquistata Enzo e l'aggressione Name Amor Iconic Duo clean veramente Enzo nell'esecuzione quel flash anche out per uscirsene dalla suprema di Paradox ha lasciato zero speranze agli Sport Empire Sandro l'ha bruciato entrambe le somme per cercare di alontanarsi è veramente un'esecuzione liscissima liscia come l'olio e Enzo da qui non fa altro che diventare più grosso e più pericoloso e più spaventoso di quello che è adesso mi dispiace tanto di Sport Empire ma la fase di corsia sulla botlane è finita e quello è un Lucian che sto soltanto aspettando di vedere Recollo perché Sandolas forzato dal richiamo in base ha metà oggetto anzi forse meglio dire due terzi no neanche forse meno forse due quinti di un oggetto poco meno della metà Enzo è già sparato verso la metà del secondo che dovrebbe essere un predatore di essenza vedendo la fulgore e come potrebbe dire ma il truliano dovrebbe essere la virtù della trede però c'era forse due spade anche quindi dovrebbe essere il martello di Colfield qualche cosa ancora mi ricordo su come si fanno le vinci di Call of Legends l'interaggressione arriva sul povero Shatown Shatown preso da parte Lebron voglia prendere ancora un'altra poi guardalo pronto ma di Dragon a scappare il flash di Paradox e va lui a trovare l'uccisione grazie a Xonix che va con la tempesta del caos il suo raggio della morte ci ha pensato Xonix sul seguire ma non aveva il flash quindi alla fine si accontenta solo di questo scambio di uccisioni Shatown un po' dolente da cedere qua Enzo voleva sperava di mantenere un pochino più a lungo la sua serie di uccisioni la sua vitalità invece risorse concesse di nuovo a Lebron 2 su 2 per adesso le kill in tasca a lui in questa squadra in questa formazione e servirà temo un po' di più per rendere quel kill il carry della tua squadra anche perché come detto gli Sport Empire cercano la Wombo Combo cercano il teamfight e in quanto tale vogliono che un po' tutta la squadra stia andando bene se anche solo qualche ingranaggio quella non se la cava poi dopo arriva anche Enzo viene bloccato vuole la shock e non sarà abbastanza Enzo trova la kill poi richiamo fatale da parte di Sandolas continuano ancora a fare danno ma Enzo continua a danzare e corre il suo Lucian Sandolas potrebbe minacciare ma alla fine decide anche lui di non sporgersi troppo avanti un ingresso di nuovo facilmente inserito per Enzo Balou ottimo il suo supporto la suprema dall'ombra dalla Fog of War che coglie l'Amzes impreparato per mettere una facile entrata per Enzo e di nuovo quella grande combo di Brown Lucian funziona per un motivo e il motivo è quello che abbiamo appena visto 5-2 quindi adesso per Atleta 2 Draghi a 0 Messaggero anche adesso incassato in secondo Xonix rischia infatti Xonix sta rischiando tantissimo anche la Femata Solare Lebron continua a fare danno da qua e di là potrebbe essere abbastanza la kill trova da Xonix poi Lebron con la sua ultimate andrà a chiudere un'altra serie interrotta per Lebron che se non altro sta incassando un po' di un po' di succosi shutdown ma di nuovo adesso è l'unico che sta raccogliendo risorse in questa squadra Sandolas viene bloccato fa male se Steyo è di carry fa male quello fa male penso per chiunque può essere a di carry non a di carry quello è stato brutale arriva però almeno l'oggetto per Sandolas quindi prossima volta ci sarà uno scudo forse non sarà 0,4 secondi sarà 0,7 secondi fa paura però perché davvero stanno giocando molto aggressivi i giocatori di Atleta e Lanzes insieme ai suoi compagni non riescono veramente a rispondere alle aggressioni solo quando sono loro i primi aggredire riescono a trovare delle kill però al rischio di dare il trade uno per uno vedremo Lebron cosa riuscirà a portare a casa perché è stato colui che ha portato l'unico 3 kill del proprio team eh sì purtroppo sì Drago adesso non ha portato Capo potrebbe essere preso di mira potrebbero arrivare i danni prova Capo a metterli da tutt'altra parte anche in materiale custode Sonic trova la kill Lognar che non avrà veramente grande risultato guardiamo però il Caligora in mano da parte di Enza con l'aggressione e anche la tempesta impetuosa ora Sonic ragge doppia uccisione per lui ai 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 e qua anche quando fight che iniziano in questo modo iniziano a andare male per gli Sport Empire sai che da qua è un po' tutta in discesa salita a seconda delle prospettive è discesa ma è quella ripida è quella che non ti permette di frenare è quella che ti continua a far rotolare verso il baratro per gli Sport Empire cercare di far partire lo scontro con un pick su un bersaglio isolato che si trasforma nell'intera squadra avversaria che ti travolge come una marea in piena non è esattamente come vuoi approcciarti a Team Fight e soprattutto agli obiettivi quando si parla di obiettivi come draghi che danno soul point draghi che danno anime baroni gli Sport Empire stanno boccheggiando stanno annaspando in questo ormai mid game ma game soffocante l'ingresso di GAP è stato fantastico quel knock up da doppio permette così facilmente poi l'inserimento dei danni della distanza Enz e Xonic stanno danzando su questi campi di battaglia poi io ripeto la bellezza di vedere lo sterminio utilizzato da Enz con la E per muoversi avanti e poi la Tempesta Impetuosa proprio per non farsi prendere la Fiammata Solare perché sapeva che doveva mettere il DPS sul team del nemico però ecco è brutto dirlo in questo momento non ci sono le vibes da poter dire Esport Empire hanno veramente le risposte perché nel primo vero teamfight 5v5 la risposta è stata solo unicamente atleta e questo fa paura se sei Esport Empire perché sì va bene tutto quello che vuoi ma Sandolas ha un campione che in teoria al secondo oggetto dovrebbe essere al peak della sua forma sì io non voglio dirlo devo dirlo dillo te per favore ci arriverà al secondo oggetto nel senso arrivare ci arriva spero nel senso lo spero ma ecco se c'è una la metto così se c'è una squadra che sembra aver preso sul serio il voler prendere quel premio di Deidara sono gli atleti mancano quasi 10 minuti e non so se in 10 minuti ci riusciranno è molto nemmeno molto probabile secondo me è il gioco che è diventato veramente lento il gioco è diventato lento ma è diventato lento in diversi modi allora è diventato lento nel senso che le fasi di corsia sono più lente sono meno punitive è più difficile snowballare ma una volta che hai snowballato non è che sia poi così lento cioè io l'ho visto Sandolas morire in mezzo secondo in queste schermaglie e non mi sembra ci sia molta lentezza che tiene intanto qui i giocatori di Atleta vanno a prendersi anche la torre interna utilizzato anche la Fanta Solare dopo aver già utilizzato anche la Shockwave non riescono a difendere questa torre e questi sono guai seri perché non c'è una vera e propria risposta da parte di Rubio in corsia inferiore forse arriverà dopo questa minion wave ma Mighty Dragon e Gabbo sembrano interessati ad andare verso la corsia inferiore è una posizione difficile quella di Rubio perché appunto o split push ma ti esponi a una chiusura dall'altro lato o oltretutto se metti tanta pressione su una torre sperando di prenderti una taglia rischi che gli avversari ingaggino sui tuoi quattro alleati e se vinci un fight in quell'area di mappa è molto in fretta Barone ma non serve neanche Roma Mega che non arriva Gabbo troverà l'uccisione anche Lebron cercherà magari una risposta ma Enzo nel senso so che però un freno qui forse andava tirato forse qua andava attivato il lato del cervello che dà l'istinto di preservazione l'istinto di sopravvivenza non il kill or be killed perché un po' troppo a fondo tutto quel flash avanti capisco l'intenzione voler far sentire Sandolas come veramente il peggiore esperienza League of Legends della vita però però è stato un po' troppo tirato un po' la corda certo sono cose che quando sei 6.000 e oltre gold avanti ti puoi anche permettere però sono quelle cose che vanno a sporcare un pochino macchiare un pochino il curriculum di questa partita Atleta stanno iniziando a rotolarsi un po' nel fango anche se lo stanno facendo da una posizione di totale vantaggio diciamo che in questo momento le docce sono ancora aperte quindi se si sporcheranno potranno riuscire senza problemi poi a ripulirsi però attenzione perché alcune volte le docce chiudono quando meno te l'aspetti intanto qui in corsia centrale i Gabbo insieme a Enzo continuano a pushare la corsia appena citata mentre Baloo mette già pressione della giungla degli Sport Empire normalmente nella prima settimana dello sconso mi dicevi chi c'è nella foresta di atleta in questo momento viene a dire chi c'è negli Sport Empire veramente poco sono 9000 gold anzi sono 4-7000 gold di vantaggio non per fare il puntiglioso e correggere su questo però la nomenclatura corretta è chi è nella foresta di Ate chi è in questo momento è nella foresta di Esport Empire chi è nella foresta di E.E. di E.E. era Baloo che controllava che non c'è la scuola e adesso si lotta per il Drago Drago dell'anima Drago molto importante sì per gli Sport Empire non che agli atleta cambi troppo avere quella stack di montagna in più o quello scudo aggiuntivo non funziona così bene con la loro compo al di fuori di quella ma per gli Sport Empire negare quel tot di solo l'abilità aggiuntiva è vitale guarda direi fermato ora arriva Gabbo dalla distanza da dietro anche con l'Oster Mioc Sonix trova la prima con Enz che va per la seconda attenzione alla posizione perché stanno cadendo l'Ognar su tre persone molto buono Sonix riprova a giocare da fuori potrebbe essere abbastanza no non è abbastanza per gli Sport Empire perché arriva la kill la doppia per Enz e l'uccisione da parte di Mighty Dragon niente da fare un altro fight a senso unico purtroppo Atleta continuano a volare in questa partita anima conquistata e ormai ci si avvicina anche a quei famigerati 10.000 gold di differenza mentre Sonix sta mandando Sandolas a valutare attentamente le sue opzioni fallo dalla tua base dalla comunità della tua base con uno schermo in bianco e nero che non ti affatica troppo la vista secondo oggetto l'ho visto è arrivato è arrivato già l'ha fatta potevamo scommettere non so un caffè o una cena ma te lo fanno stesso un caffè un caffè un caffè un caffè grazie mille ottimo prox Sonix potrebbe morire o forse uccidere i cooldown ci sono mio dio vabbè quello fa veramente schifo Sonix è tornato sul suo Victor e si vede è 7-1-5 10 stacks sul sigillo scuro che è stato timidamente non trasformato in Mejai ma adesso forse senti un po' il rimpianto di quella decisione ma abbiamo spike immense ormai per questi atleta un barone conquistato un'anima conquistata la madre rovina e uccisore di Kraken adesso limitare di Mighty Dragon tre oggetti per Ends con questo rancore di Serilda si vola verso quella che dovrebbe essere una conclusione non troppo distante ormai questo barone se non altro dovrà cercare di sfondare la base degli Sport Empire Gabbo che ha deciso di utilizzare il TP per pushare questa corsia inferiore e ora in questo preciso momento avendo anche questi due minion è una minion wave che arriva facile facile proprio vicino a lui guardiamo i danni che mette anche sulla torre grazie a una build full tank può anche permettersi di giocare intorno ai danni che mette lo stesso rubio perché danni sinceramente ce ne sono ancora pochi per il player degli Sport Empire mentre prendono la torre in corsia centrale si spostano verso quella inferiore potrebbero provare forse un'aggressione arriva infatti anche l'utilizzo dello sterminio Lugnar potrebbe essere buono trovata la torre poi anche Martello del Custode per portare gli avversari Sandoraz viene messo K.O attenzione ma i dragoni i suoi capi sono veramente bassi riuscirà a scappare forse si Geras interrotta comparte comunque ha fatto l'Anses ora guardiamo Sonix che va a dominare trovando l'uccisione anche sullo stesso Paradox e questo caro è la fine di questa storia perché gli atleta riescono a sorpassare gli avversari gli atleta vanno a finire 3 a 1 that's all she wrote come si suol dire 3 a 1 per atleta e sfortunatamente ancorati al fondo della classifica 0-4 per gli Sport Empire al termine della seconda settimana un inizio sicuramente appesantito degli Sport Empire che siamo tristi di vedere su questo risultato degli atleta che siamo contenti di vedere innanzitutto tornare a giocare in salute e soprattutto in gran forma perché questo game di oggi è stato un game da sottolineare punto esclamativo salvi conservi nel taschino e te lo guardi nelle giornate tristi per ricordarti com'è bella la vita ah pensavo che ci fosse anche ora il comando punto esclamativo atleta non lo so su punto esclamativo ho avuto paura c'era il comando ieri però oggi non c'è più perché atleta sono tornati in forma e ha la possibilità di giocare e molto in forma sì assolutamente mi viene anche da farti cioè farmi delle domande riguardante la performance che hanno messo gli Sport Empire perché va bene le persone possono stare male possono avere dei problemi però veramente gli Sport Empire in questo split stanno subendo tanti colpi fermo restando che siamo in inizio split può esserci un recupero assolutamente gli atleta sono il team forse insieme Outplay ed è Machco che sulla carta ci viene subito da dire questi lotteranno per vincere il titolo barra arrivare secondi per gli master però tic toc tic toc e Bianconiglio sta arrivando assolutamente voglio fare un po' l'avvocato del diavolo su questo discorso perché è un inizio tragico per i Sport Empire con questa formazione non avresti voluto quindi sarà 0-4 a prescindere dalle circostanze perdere un player la prima settimana ha fatto male ma soprattutto la cosa che voglio presentare io è il calendario di questa squadra gli Sport Empire hanno contifatti giocato contro le quattro migliori squadre sulla carta del campionato quindi le big four loro se le sono tolte se questa è una squadra che punta a lottare per quella quarta posizione non è esattamente come vuoi farlo perché qualche upset devi trovarlo però questo è uno 0-4 che io non faccio alcuna fatica a vedere trasformarsi in un 3-4 per chiudere la prima metà dello split e se chiudi su un 3-4 punti poi tutto il recupero nella seconda minorità sì sono d'accordo però dall'altra parte mi viene a dire se tu vuoi arrivare in quella top 4 che è quello che hanno detto molto spesso gli Sport Empire con questo roster e si decidi di ribattere assolutamente è quello che ho detto è una prima metà dello split questa senza upset ma da qualche parte gli upset devono cacciarsi fuori anche perché stiamo venendo non pochi upset sul resto della classifica non sono loro a prenderli Magico 02 questa settimana è soltanto una briciola di quello che effettivamente si può comportare il destabilizzarsi della classifica quindi queste sono tutte cose che un po' vanno a sostenere gli Sport Empire se gli Sport Empire mantengono la consistenza di battere le squadre sotto di loro in questo momento nessuna però quelle che vorrebbero lasciare sotto di loro Axel Hottle GG Esports Samsung Morningstars che sono i loro prossimi 3 avversari non so esattamente in quale ordine questa è una squadra che poi quando si trova a rifronteggiare dei Magico non saranno dei Magico che hanno battuto consistentemente tutti sotto di loro sono dei Magico che avranno perso da Axel Hottle che avranno perso da Samsung Morningstars e dei Magico che magari puoi cercare di dei quali puoi cercare di strappare via la quarta posizione sono dei Magico che devono arrivare a far conto delle sconfitte subite nel corso dello split quando si inizierà a tirare le somme su quelle ultime settimane è sicuramente un sono lanciato molto avanti nel dirlo però è proprio per sottolineare il fatto che questo è uno 0-4 che in realtà è meno tragico di quello che sembra ok non positivo per carità nessuno vuole essere 0-4 sono esattamente dove voglio essere tutto come il mio comfort zone no certamente no però è uno 0-4 che come ho detto non faccio alcuna fatica a vedersi trasformare in un 3-4 ho però un altro dubbio e qui devo fare un plauso agli atleta se gli atleta giocano così bene e gli Sport Empire non riescono a rispondere lo split non è che finisce fra tre mesi finisce fra un mesetto un mesetto e mezzo quindi puoi avere delle risposte da parte di Sport Empire aspetterò la prossima settimana poi e te ci rifaremo i calcoli su tutto quello che è successo MVP da parte di questa partita abbiamo Gabbo Sonics e Baloo sei perplesso anche tu dal fatto che non vedi Enzo anch'io devo essere sincero analyst-esque avranno i loro motivi avranno i loro motivi e sono sicuro che ce li spiegheranno durante il segmento finale però è stata un'ottima performance anche da parte di Gabbo Xonics soprattutto Sonics che come hai detto è tornato su Victor soprattutto Xonics che è tornato su Victor ha avuto una grande performance e quello che menzionavo prima dell'inizio della draft è che volevo vedere questi atleta eSport entrare in una week 2 più quasi più uniti meno disorganizzati alle schermaglie all'inizio del team fight appoggiandosi sull'iper performance di alcuni giocatori per vincere i fight no questi atleta i fight ci sono arrivati con enormi vantaggi alle spalle però li hanno giocati anche bene non sono stati i fight dove Gabbo era perso su un flank e Mighty Dragon si avvicinava timidamente senza trovare l'inserimento sono stati ben coordinati nel farli accadere ben coordinati nel cercare le aggressioni e questo jump secondo me è un ottimo upgrade rispetto alla VQ1 andiamo a vedere poi anche quello che ci daranno in intervista è che naturalmente arriveranno anche delle domande riguardanti come stanno soprattutto perché la salute prima di tutto sai che ti dico andiamo a sentirli subito abbiamo Sonics insieme a Juniper noi da Casta Desca è tutto vi auguriamo una buona settimana sempre qui sui canali di PGE Sports LOL e bentornati in questo ultimo post partita siamo in compagnia di Sonics hi Sonics thanks for joining me in this interview how are you? hello hello I'm fine per prima cosa voglio un po' sapere da lui come si sentono come è stato il loro mental dopo chiaramente quello che è successo ieri sbutto come stanno unfortunately unfortunately yesterday you were not able to play first of all I want to ask you how are you guys and then I want to know how was your mental after that yeah unfortunately we have some issues with COVID but I would say like it's really unfortunate that we lost like yesterday game just for fun just we we were not prepared for this COVID and yeah it was unlucky and our mental was kinda like I don't know how to say it yeah don't worry don't worry yeah but for this game we focused and I just did a good performance ok ci ho detto che chiaramente non si aspettavano situazioni del genere e il loro mental non era ovviamente dei migliori ma per il game di oggi l'unica cosa che importava era portare delle buone performance in game ed effettivamente è quello che hanno fatto un'altra cosa di cui voglio parlare è l'incredibile supporto che c'è stato da parte della community italiana in seguito appunto all'annuncio ufficiale è bello poter vedere quanto appunto supporto ci sia stato nei loro confronti e voglio sapere se questo ha potuto risollevarli almeno un po' in seguito Vi ho visto molto supporto dalla comunità italiana dopo la notizia offensiva e è molto bello di vedere, ha aiutato a cheer UHOB? Mmm, mi sembra un po' Non so, mi sembra davvero male che abbiamo perduto per non giocare ma mi sembra bello che la comunità sta cheerando per noi Chiaramente ci ho detto che è stata pur sempre una vittoria, una sconfitta persa non giocando quindi chiaramente l'umore non era il massimo però è bello comunque poter avere un minimo di supporto, un po' di aiuto da parte della community L'ultima domanda voglio fargli, visto che ne avevamo parlato anche con gli altri team era lo showmatch che hanno fatto a Torino in cui si sono potuti vedere dal vivo voglio sapere un po' come è stato dal loro punto di vista perché è stato bello potersi appunto vedere tutti insieme e vorrei chiederti per l'ultimo weekend, perché eri in Torino per il showmatch come ti mette con i vostri teammati? noi abbiamo un bootcamp, quindi ogni giorno vediamo l'ultima e Torino per me non è stata una buona esperienza perché non mi piace è stato bello potersi appunto, è stato bello potersi appunto è stato bello potersi appunto e nonostante il morale un po' un po' malinconico voglio annunciarvi che è proprio Xonix l'MVP di questa partita e direi che se lo merita perché ha bisogno veramente di un po' di scuotersi, di togliersi sì è un po' giù, è un po' giù speravo Giulia entrasse a gamba tesa con i complimenti che gli stiamo facendo beh avremo occasione, perché sicuramente avremo occasione però l'avrebbe più voluto inondare di abbracci nella forma di complimenti per il suo glow up straordinario di questo video di campionato perché questo non è l'Oxonix che ho visto assolutamente no questo è l'Oxonix 2.0 ma forse pure 3.0 è un TurboXonix se vogliamo dirlo Jacksonix dà un po' un nome da Pokémon con gli stadi evolutivi quindi effettivamente stiamo assistendo forse alla forma finale di Xonix chi lo sa perché veramente Sonic Zorn era un giocatore molto molto solido ma assolutamente dormiente, sorgnione nel suo freestyle ecco era lì sulla midlane a non concedere davvero nulla di gratuito al midlane l'avversario ma rari, erano i momenti di glow up vero e proprio dove si prendeva la giocata dove si prendeva quelle belle finestre per aggredire mettere giù DPS guarda come avanza con questo Victor ed è finalmente un carry che sa anche individuare delle finestre per andare a far pesare il suo inventario sugli avversari molto prima di quanto non facesse questa primavera ed è lì che saltano fuori 28.000 danni sul grafico dei danni infritti a campioni amici Sonic Zornix è davvero molto più cattivo molto più agguerrito ed è tremendamente necessario in un meta come questa in cui la midlane finisce spesso e volentieri col fare un po' da linea di support alla botlane che sta molto bene alla jungle che sta molto bene alla top lane che sta molto bene ma questi maghi della mid sembrano sempre di più dei supporti di misguide non nelle monedics onis che ha trovato veramente nuova che sta avversando dei signori Victor come questa primavera ma con l'iniezione di DBS però dobbiamo anche parlare di quegli sport empire è il mio turno di flammare ragazzi prendo il fucile è arrivato ho avuto informazioni di background allora io vorrei concentrarmi sul gameplay ragazzi ma prendere ogni play è difficile all'analyst quindi posso flammare le draft easy allora mi ha scontattato l'assistant coach Evan degli atleta mi ha detto che sono in tre a casa senza connessione con la connessione dati del telefono quindi potete capire quanto è stato non addolcirò la pillola per di sports empire no 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 ok è conosciuto il Victor Dixonix anche per la finale che abbiamo fatto da Analyst insieme per essere pericoloso il Victor Dixonix che cosa fanno? prendono Kalista che è un champion che deve essere molto fast deve snobollare con Orianna mid che non fa nulla farma contro un Victor player che ha oltreggia sia Orianna sia Kalista no no you don't do that e ci aggiungi Kane per massimizzare quanto brutto sia contro Victor in top era forse l'unico match up che mi è piaciuto davvero quindi questa draft ragazzi è stata è un problema ok e sport empire devono capire verso che direzione andare perché ok volete questa Kalista botto e non andate a Orianna Kane volete giocare per la top come hanno provato a fare le scorse partite lo fate in modo migliore gli sport empire li vedo davvero persi ripeto sempre è una cosa di team sono stanno camminando verso 5 direzioni diverse devono abbracciarsi in gruppo e portarsi verso un'unica direzione perché gli atleta venivano da una situazione terribile sia personalmente sia di qualsiasi tipo inimmaginabile ok non possono prendere loro il titolo dei 27 minuti loro avranno il regalo ragazzi sono riusciti a chiudere un game in 26 e non avevano una cop da early game avevano Diego Poppy Victor ragazzi quindi grave 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 io ormai sono qui per flammare quindi flammerò perché ci vuole il pugno di ferro ragazzi vuole vi dice ok belli ok elsi game io sono qua a fare il gorilla per dirvi no ok ragazzi un'altra settimana così gli sport empire faranno super fatica ok a recuperare gli standings GG invece agli atleta che ha riconfermato di essere forti di essere bravi san punire gli errori san giocare le draft sono spesso semplici ma funzionano sempre cosa da apprezzare visto che tanti stiamo vedendo che vogliono fare troppo e poi non ottengono nulla quindi ottimo ottimo da parte di atleta e-sport empire non fatelo più non fatemi arrabbiare non fatemi arrabbiare mi raccomando è difficile quando ci sono tutte queste chimiche da creare non è un caso è una cosa che vediamo accadere ciclicamente a tutti i team che affrontano dei rebuild importanti dai samsung agli e-sport empire ai GG e-sport della prima week per esempio anche i g-sport dello scorso speed che hanno avuto una rampa di lancio molto poco ripida era bella lineare ci sono tutte tante settimane quindi ci auguriamo che sia il momento in cui si sta sperimentando tanto per non dover sperimentare più quando arriverà quella week d'oro in cui tutto non c'è bisogno di mettere mano al motore ma a questo punto tu ti vogliamo sapere se hai già scelto il regalo che darai agli atleta farai agli atleta è un segreto non lo posso dire un po' come come quello che voleva dire wallcat l'altra volta non è che vorresti ripeterlo non dire nulla di bannabile dedo mi sa che sta sfociando invece nel terreno no ragazzi non potrò non potrò dire il broadcast lo saprete forse nel prossimo broadcast se il regalo sarà fatto se di dara sarà ancora qui se non ci sono il regalo è arrivato ok va bene va bene ma andiamo a fare un piccolo recap di quello che abbiamo visto oggi cominciando chiaramente dalla partita tra outplayed e gg esports che ha visto degli outplayed vincenti ma dei gg esports che hanno cercato comunque il filo da torcere per poi passare a samsung morning stars contro cyber ground gaming anche stavolta i cyber ground gaming portano a casa la vittoria abbiamo avuto poi dei match con esports cadere sotto l'avanzata degli axolot che finalmente portano a casa la vittoria e infine appunto atleta e-sports contro e-sports empire che fortunatamente per gli atleta sono riusciti un po' a rendere migliore rendere un po' più dolce questa seconda settimana dopo la giornata di ieri sono un po' amareggiato per aver lasciato a metà la mia call da eroe perché l'ho detto e l'ho ripetuto e me ne sono fatto grande portavoce prima della partita di questa possibilità per gli axolot di fare il colpo gobo però nelle prediction non ci ho creduto è una giornata perfetta ma lo stiace questa è una classifica che devo dire non ci aspettavamo poco assolutamente non aspettavamo di vedere gli sport empire a fondo classifica visto il super annuncio di Lebron uno dei giocatori più fetturati di questa off season non ci aspettavamo di vedere i match che è un match incredibile è veramente un tiviso pazzesco però devo dire che la vetta con Outplayed l'età e anche i cyber ground ce la potevamo immaginare ecco giusto con le posizioni di cyber ground e match che invertite ecco mettiamo una cosa tra l'altro contenti vorrei far notare la prima partita della prossima settimana del prossimo play day perché Outplayed contro match è un match of the week però con questi match questa è una domanda interessante potrei usarla per il prossimo dibattito vediamo ma tra l'altro aspetta aspetta io mi sto per caso perdendo qualcosa perché è vero che abbiamo match copp ma i match hanno anche gli atleta al giorno dopo quindi effettivamente forse non è match of the week che hai ragione tu daydo match of the week è il giorno dopo è quello dopo non vorrei essere nel roster dei match in questo momento quando ci sarò pirata non avremo dubbi penso perché sono i match poi in dubbio quindi è vero vedremo in quel caso dopo una settimana in cui ho messo coach cristo nel team of the week perché sennò va veramente diventare una nuova forma di maledizione io l'ho detto walley le due forze giudipe e wallcut da chi volete essere blessati possibilmente non wallcut però ma per oggi per questa giornata è finita noi vi ricordiamo come sempre l'appuntamento è ogni settimana il martedì e il mercoledì alle 19 da parte di pg esports e dai nostri main partner fonses intel e kitkat vi auguriamo una buona serata e un saluto anche da juniper wallcut e dai dara bella 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 bella